Ciao a tutti, perché abbiamo fatto questo video? Perché siamo stanche delle critiche e dei pregiudizi su Napoli. Non è per farci pubblicità, ma vogliamo solo esprimere il nostro pensiero. Non ci sembra giusto che certe persone criticano Napoli. Magari persone che non ci sono mai state. La maggior parte di queste persone tende a dire che Napoli è sporca e piena di incondizia. Oppure che ci succede come niente. Cioè, ma stiamo scherzando? Può darsi che infatti queste cose sono anche vere, ma di certo non dobbiamo fare tutta l'erba a fascia. Nel mondo ci sono cose negative, ma non dobbiamo sottermarci solo su quelle, perché se no non si nasce più da questa situazione. Ovviamente tutti possono avere il proprio parere, ma almeno abbiate la sicurezza di ciò che dite. E sappiate che spesso i giornali e la televisione tendono ad amplificare le cose. Poi tutte queste critiche su Napoli sinceramente non le ho mai capite. Napoli è una città meravigliosa. Napoli è la città del sole. Napoli è una città meravigliosa.